Nuovo video della serie Mangio e Viaggio. Stasera dove andiamo? Svezia! Perché l'avete detto voi, gli avete suggerito voi questo paese, io ho scelto una ricetta molto volosa al cioccolato. Quindi qua ho già preparato tutti gli ingredienti e adesso vi faccio vedere. Ho messo anche gli anelli a forma di cioccolato. Questo è il braccialetto a forma di cioccolatini. Cosa serve invece per questa ricetta? Quindi troverete poi tutto nella scheda. Comunque le uova, la vaniglia, il burro sciolto, il sale, lo zucchero, la farina, il cacao in polvere. Bilancia e due ciotole. Non ho detto il nome della ricetta. Si chiama Klaav Kokia. L'ho scritto. La pronuncia è Klaav Kokia e adesso vi metto qua la scritta in svedese. Nella prima ciotola si mette il burro fuso, lo zucchero, la vaniglia e le due uova e si sbatte con una frusta. Vaniglia, ho deciso che abbondavamo, ma volevo un po' vanigliosa. Due ne metto, crepi la varissima. Poi le due uova intere. Abbiamo messo due uova e adesso bisogna amalgamare bene il tutto e quasi come montare il tutto. Le uova poi, le vedete là dietro, vanno nel compost. Fate il compost? Ho la scheda su come si fa il compost. Se vi scrivete alla mailing list vi arriva la scheda su come compostare tutti gli avanzi della cucina e del giardino. che andremo a mettere nella seconda ciotola. 90 grammi di farina. No ma non vi devo dare le dosi perché sennò poi nella ricetta la scheda non la scaricate. Farina, cacao in polvere, quindi gli ingredienti quelli secchi. E poi la farina setacciata. Noi la setacciamo con questo. Ve lo ricordate il film di Julianne Moore dove lei fa la torta? Quello l'ho voluto comprare questo. Mi fa molto anni 50. Posso mettere io il pizzico di sale? Vado così? Una volta che abbiamo le due ciotole adesso bisogna unire i due ingredienti, quelli morbidi e quelli secchi. Quindi noi risetacciamo questo all'interno dell'uovo e lo zucchero montato. Perché non viene una torta alta, viene una torta bassa e soprattutto molle, diciamo così. Stavo dicendo morbida ma probabilmente più molle con la crosta superiore. e ora livelliamo la torta. È un po' complicato con una mano sola. Nella scheda illustrata che scaricherete quando vi sarete iscritti alla mailing list ci sono tutti i passaggi e tutti i tempi di cottura eccetera eccetera. E adesso la abbiamo lasciata raffreddare. Adesso la mettiamo in un piatto carino e la proviamo. Siete curiosi? Io tantissimo. Circondata dai Narcisi? Assaggiamo la torta. Si chiama Klavkokia. In italiano si pronuncia... No in italiano, in svedese si pronuncia Klavkokia. Allora è molto bassa e dovrebbe essere molto appiccicosa. Vabbè non ve lo dico neanche. Super, super approvata. È dolce, sa tanto di cioccolato ma non è stucchevole. Bene, sono molto molto contenta. Quindi se volete la ricetta dovete iscrivervi alla mailing list e trovate il format sul blog. E questa è la rubrica mangio e viaggio. E io adesso faccio un bel viaggio in Svezia. E la prossima ricetta non so ancora. Quindi lasciate un commento se volete un paese in particolare. E ciao da Dana di Blossomsin e al prossimo video ricetta. Mangio e viaggio. Ciao! 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 Ciao!